Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo video di cui noi parleremo del collegio. Cosa è il collegio? Allora, prima di tutto il collegio è un programma televisivo del cui ci sono 18 adolescenti che devono vivere gli anni 61 di quest'anno. Vi faccio vedere i protagonisti del collegio di quest'anno. Andiamo su Chrome. Andiamo a mettere un po' lì. Allora, mettiamo i ragazzi del collegio. Ecco, immagini. Non sono questi. Devo andare a vedere. Dove sono andata a finire? Sono scomparsi. Ecco, una coreggiale sarebbe lei. Michelle Cavallaro. Lei sarebbe la fidanzata di Roberto Magro. Poi vi faccio vedere. Ecco qui, Tincano. Tincano è un ragazzo davvero molto... Molto, come posso dire, movimentato da quello che ho visto. Poi c'è Camilla Ricciardi. Vabbè, Michelle Cavallaro. Il Prof Maggi. Brunella. Noah. Noah Planas. Gaia. Algeri. Davide Moccia. Espaniamo. Davide Moccia. E andiamo avanti con i ragazzi. E andiamo avanti con i ragazzi. E ecco qui. C'è Roberto Magro. Giuseppe Spitaleri. Davide. Ecco qui. Qui li vedremo tutti, 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 tutti. E andiamo semmi la foto. Ok. Allora, c'è qui Davide Moccia. Gallia. Malgeri. Il ragazzo cinesino che è molto simpatico. Adesso non mi viene il suo nome. Elisabetta. Giuseppe Spitaleri. Michelle. Il signor Moragno. Brunella. Tincano. Maddalena. E l'altro ragazzo riccio. Ok, adesso non mi viene sempre il nome. Noah. Maga. E Elisabetta. E un'altra ragazza. Io di questi tre ragazzi non mi ricordo mai il nome. Mi spiego più in approfondito cosa è il collegio. Allora, il collegio sarebbe un... Ma se vi parlo andiamo subito sotto il network. Il collegio sarebbe un... Sarebbe un istituto dove prima, negli anni 60, 61, 62, i ragazzi andavano a studiare. E quindi portano il certo adolescente dell'anno 2017 per far privare le emozioni degli anni 1961. Nel collegio... Devono riuscire a restare fino alla fine. Dovrebbero rimanere per un mese. Però, certi ragazzi non ce la fanno e vanno via. Oppure vengono espulsi perché non si comportano bene. Tra l'altro, io vorrei vivere il collegio. Ma i miei non vogliono perché... Il collegio è prima di tutto si trova a Roma, come istituto. E io fino a Roma non posso andare. E quindi non... Non lo farò mai. E quindi stavo facendo il collegio e questa scuola dove ha deciso che gli adolescenti devono sopravvivere. Se non sopravvivono, o vengono espulsi, oppure... Oppure escono proprio loro dal collegio. Cioè vanno via loro. Tra l'altro, adesso vi dico tutti i ragazzi che se ne sono andati oppure se ne sono stati espulsi. E le ragazze che se ne sono andati sono stati Marco, poi... Marco, Arianna, tra gli asti è stata espulsa. Poi... Ricciardi, Camilla... Poi... Chi altro? Basta così. No, Roberto Magro è stato espulso. E poi basta così. La fine del collegio di quest'anno non mi piace davvero tanto perché come è stato visto io il collegio e mi piace davvero tanto questa... questo programma televisivo perché mi fa capire che negli anni 61 la vita era un po' più... un po' più severa e bisognava mettersi sotto per studiare altrimenti non riuscivi a capire niente. Se vi sarete chiedendo cos'è questo soltanto nel artwork, certi potrebbero lo conoscere come certi anche no, è Tumblr. E quindi... questo era il collegio e il collegio... a me piaceva tanto. Ehm... Quindi... Io il collegio lo vorrei vivere. Vedetevi sotto nei commenti se vorreste vivere anche voi nel collegio per un mese. E... se... 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 voglio... vi farò una domanda molto, molto, molto difficile ehm... molto difficile che voi dovrete rispondere ovviamente. Ehm... Tra l'altro ehm... io oggi ristabilisco le date del... dei video dei giorni video. Allora, i video usciranno ehm... nei giorni che io potrò fare i video perché sono ogni giorno impegnato. Ogni giorno mi lascio un impegno cioè ieri avevo la mia festa di compleanno. Infatti ho fatto più 13 anni e... ehm... ho il catechismo il sabato o... poi la scuola, i compiti e quindi è un po' più difficile far... fare i video. Quando poi devi fare i compiti devi fare la festa, devi fare... ehm... dei servizi e quindi è un po' più complicato. Quindi quando ho tempo di fare i video li faccio altrimenti... tipo quando voi andrete a vedere e riuscirete a capire che i video non escono più nella... nelle settimane perché sono impegnato e... a me dispiace tanto che io sono impegnato e non posso fare i video nei giorni che vedo già sto abilito. Però... ehm... sono impegnato e quindi non posso fare niente. Quindi... guardiamo un po' su Tumblr e poi... il video finisce qui. Vedete un po' Tumblr è un'applicazione efficissima anche se poi non tanto pubblica però mi piace. ho ancora zero follower perché è da pochi giorni che lo sono installato e quindi devo ancora aspettare un bel po'. Che buono! Quindi raga questo video può finire qui. Se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale lasciate commenti e al prossimo video. Ciao!